Bentornati a SOS Rezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Quando siamo seduti su una panchina, perché c'è un motivo che parliamo un po' a caso, no scherzo, parliamo di un argomento di cui abbiamo già parlato diverse volte, che è quello della nuova sede della Polizia Locale. Che mi sembra se ne è parlato anche in questi giorni in Consiglio Comunale. E se ne è parlato anche in trasmissione da noi a Nero su Bianco. C'è qualche lungaggine perché, se abbiamo capito bene, una delle imprese che doveva fare i lavori, si parla sempre del recupero dell'immobile dell'ex scuola materna di via Fabio Filzi, che era di proprietà della Cuglia, si dice così? Sì. Che poi passa al Comune di Arezzo, e il Comune di Arezzo vuole farci la sede della Polizia Locale. Ci sono state critiche per questa scelta, tu stesso l'hai espressa altre volte. Adesso pare che c'è stato un ricorso di chi ha perso, quindi adesso dice che il Comune sta controllando perché comunque deve essere tutto perfetto, quindi sarà qualche ritardo e poi si parla. Ma sento il capolupo del PD che parlava di Corte dei Conti, di denuncia alla Corte dei Conti. Iniziativa politica. Di denuncia alla Corte dei Conti perché secondo loro l'espesa di 6 milioni circa è eccessiva rispetto all'investimento che si va a fare. E poi tu dici, cioè tu, chi ha fatto questa denuncia potrebbe essere un danno erariale perché comunque tu non hai utilizzato forme più convenienti o addirittura immobili che ha già il Comune. Esatto. Può saccare la Corte dei Conti, ovviamente deciderà. Comunque vogliamo fare una scommessa. Quale? Che ci mettiamo su? Dai, qualcosina, una scena. Una scena dai. Con te non andrai oltre perché... La Polizia Municipale non andrà mai in via Fabio Filzi perché non può andare in via Fabio Filzi. Perché l'hanno comprata a paghe. E questo lo dico al sindaco. Vuol dire che c'è un progetto. Ma secondo me la Polizia Municipale sta bene dove sta. Se l'hai portata a te, ci credo. E infatti il Comune d'Arezzo non gli costa niente questa operazione. non paga affitti, non paga milioni di euro per fare i traslochi, per fare gli impianti e così via. Non la porta in un posto dove non c'è nessun tipo di accesso. Quindi la Polizia Municipale non andrà mai in via Fabio Filzi. Chi è che lo impedirà, scusa? Se è il Comune che... Lo dico io. Io ti dico che secondo me non ci andrà mai. Poi vediamo un po'. Te che dici? Secondo me ci va. Va bene. Allora, hai posto l'ardo sentenza, non buttare via questa registrazione. Perché poi ne riparleremo. Secondo me la Polizia Municipale sta bene dove sta. e non andrà mai via Fabio Filzi. Ho capito però, qui hanno comprato... Da che si diverteranno a spendere i soldi? Hanno comprato... Cioè comprano questo immobile, ci fanno i lavori e poi non ce l'ha... E dopo smettono, cioè questo progetto viene accantonato, cioè com'è possibile? Ci faranno a scuola. Come c'era, c'era un asilo. Scusè, ma se ci fanno i lavori finalizzati a portarci la caserma... Ci andano in strafalli, c'ho da vederli io. E inizieranno, eh? Ah beh, inizieranno a vedere. Io dico che non ci andrà mai. Te che ti dici di che andranno? Vediamo, dai. Vediamo come va a finire. Sai qualcosa che non ci vuoi dire? No, io ho le mie supposizioni, poi un altro anno ci sono le elezioni, vediamo un po' come va a finire. Mettiamo che il sindaco non venga riconfermato, è perché ci sta nelle cose. Tu pensi che un sindaco di centro-sinistra poi porti avanti... Io parlo di utopia. Siamo quella fanta politica. Il sindaco di cosa? Quanta utopia. Un sindaco diverso... Di centro-sinistra? Di centro-sinistra. Perché c'è? Esiste? Va bene. Un sindaco diverso da quello di oggi, che magari ha osteggiato quest'operazione, tu pensi che la porti avanti? No. L'operazione è andata avanti per anni, vediamo un po' cosa succede. Ho capito, però se nel frattempo vince una ditta e il lavoro inizia, come fai a stoppare tra un anno? Una ditta fa i lavori per un certo importo, poi ce ne sono altre che dovranno fare per altri importi, quindi vediamo un po' cosa succede. Comunque il sindaco ha detto in trasmissione che ci sarà, tu hai detto il problema delle vie d'accesso, ci sarà un doppio accesso, sia da Fabio Filzi che da Via Rismondo. Bene. Quindi si risolverebbe anche quella tua critica che hai detto, che non c'è accessi, quelle cose lì. Per me è messa malissimo, giusto? Basta. Poi ci può essere anche l'accesso a Via Rismondo, ma c'è una scuola su Via Rismondo. Ma comunque, niente, il sindaco vede questa operazione positiva. Io dico che questa operazione è negativa, ma oltre modo negativa è che la Polizia Municipale lì non ci potrà andare mai. C'è una scommessa lanciata dal nostro Beppe Marconi e la offre anche al sindaco la cena? Eh, purtroppo sì, se ha ragione lui bisogna pagare anche al sindaco. Eh, per forza. Ma se ho ragione io, dopo il sindaco, ah, io la pago i te. Eh, vabbè, il sindaco l'abbiamo chiamato. No, io la pago i te. Eh, scluda. La pagherò io. Anche all'operatore. Ah, anche all'operatore che era presente e che fa la testimone. Esatto. Va bene, va bene. Mettere a parte i soldi. Cerchiamo uno sponsor per la trasmissione, un ristorante. Ci vediamo domani.